Si chiude la settimana della moda a Milano, non solo Passarella, presentato un docufilm. Daniela Cuzzorino Berosler. Il red carpet con il sindaco Beppe Salla davanti al cinema Odeon per la preview del film documentario Milano The Inside Story of Italian Fashion, che ha chiuso il calendario fisico di questa ricchissima settimana della moda a Milano. Un docufilm scritto e prodotto dal giornalista statunitense Alan Friedman con la regia del vincitore del premio Emmy, John Maggio. Ci sono diverse rivelazioni nel film. Uno è che nel 97, pochi giorni prima della sua morte, Gianni Versace ha approvato la fusione di Versace con Gucci. Accordo che non è andato in porto dopo che è stato ucciso. La rivelazione più importante per me è Giorgio Armani Unplugged. Giorgio Armani che si lascia andare, che parla per la prima volta in camera del suo partner Sergio Gagliotti. Perché hai deciso di raccontare alcune cose inside, Armani? Interiori, intime? Beh, dal momento che ho accettato di partecipare a questa avventura, l'unica cosa è essere come sono e dirlo, fammi vedere.